Siamo con Patrick Mattei del Caltern Caldaro di provincia di Bolzano siete venuti qua a Belmonte per una partita importante per la vostra classifica siete un po' dietro la squadra di Belmonte delle Piume d'Argento ma a quanto pare avete una partita, credo, in meno se non due due partiti allora, come prospettate questa partita di oggi? se la ritenete importante per la classifica? e soprattutto quali sono i vostri obiettivi e a cosa puntate? ma certamente la partita è molto importante siccome loro sono davanti a noi siamo venuti qua e abbiamo fatto un lungo viaggio non per perdere, ma per vincere l'obiettivo è quello dell'anno scorso di raggiungere i playoff l'anno scorso siamo arrivati i terzi e quello è l'obiettivo principale per quest'anno come è ritrovata la squadra rispetto all'anno scorso? se avete lo stesso rendimento? se c'è stata comunque una flessione? dal tuo punto di vista? ma dal mio punto di vista io quest'anno sono nuovo e l'anno scorso c'era il mio allenatore che aveva il mio posto e adesso gioco io al posto suo perché sei fortunato comunque siamo più o meno allo stesso livello e penso che le possibilità ci sono e diamo il massimo per arrivarci come vedi questo campionato nella sua complessità se c'è molta più qualità rispetto all'anno scorso oppure rispetto all'anno scorso se non è cresciuta? ma secondo me con la squadra del Belmonte è un po' cresciuta si vede anche che adesso sono quarti praticamente sono in via per i play-off da uno che arriva dalla Serie B è un bel passo diciamo e quello vuol dire che il campionato si è alzato il livello grazie 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 Grazie.